Ok, con il team Blue Star Racing, partiti dalla sesta posizione su 30 squadre, è stato Cristian a prendere il kart per il primo stint. Cristian, tu sei il driver che inizia la race. Qual è la tua sensazione? Con i 30 team, tutto era bene o avevi problemi? No, avevo un pochino problemi. Il inizio era abbastanza chaotico, ero in un sandwich con tre persone, quindi nel primo giro non ho capito come ho voluto, ma in fine ho avuto il mio ritmo e era abbastanza ok, ma il kart non si sentiva molto bene, si sentiva più peggio, ma ho provato a riuscire 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 a riuscire. E questo è tutto che puoi fare. Ok, si è dovuto accontentare ma da bravo pilota ha portato avanti il suo stint. Adesso invece andiamo da Vika, che sarebbe con l'AF però in italiano ci creiamo un po' di problema. Vika, sei il driver che inizia la seconda stint. Vika, sei il driver che inizia la seconda stint. Vika, sei il driver che inizia il secondo stint. Vika, sei il driver che inizia il secondo stint. Vika, sei il driver che inizia il secondo stint. quindi questo è davvero divertente per me, mi piace il Wettemore, per me è meglio. Grazie.